Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Oggi è sabato 25 aprile e vediamo come titolano i principali quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dal quotidiano del Molise che titola con resistenza e liberazione festa di unità. Omaggio ai partigiani che il 25 aprile 1945 resero l'Italia un paese migliore. Oggi le celebrazioni per il settantesimo anniversario ricorrenza che resta scolpita nel cuore e nella mente. Quella del 25 aprile nel settantesimo anniversario della lotta di resistenza è una data che va scolpita nella mente e nel cuore degli italiani, soprattutto i più giovani ai quali sono state negate le pagine più recenti della nostra storia. Questa data è e va considerata come un giorno di festa e deve trovarci uniti nel ricordare e rendere onore ai martiri che hanno combattuto per consegnarci l'Italia liberata da cui è nato uno stato democratico e repubblicano. E ancora politica, Iorio torna alla carica e affonda la gestione della regione. I serni antifascisti in piazza per chiedere di cambiare nome a via Berta. Una protesta sobria ma carica di significato. Antoesponenti di PCL, Rifondazione e Wilbach hanno chiesto di cancellare l'intitolazione della strada ad un uomo, Giovanni Berta, che fu attivista e militante del partito fascista. E ancora Termoli, fitto del ramo d'azienda, lo zuccherificio naviga verso la salvezza. E ancora Isernia a cena col ministro ma la finanza vuole capire chi ha pagato il conto. Alle battute finali l'inchiesta sulle spese dei gruppi consigliari. Nuovi accertamenti sulle spese dei gruppi consigliari alla regione molise da parte della Guardia di Finanza. Nei giorni scorsi i militari delle Fiamme Giolle si sono recati in un ristorante di Isernia per effettuare riscontri su alcune fatture. Si tratterebbe di quelle emesse nei confronti di alcuni gruppi consigliari della regione che avevano pagato qualche anno fa alcune cene avvenute nel locale Isernino, tra cui anche una a cui partecipò un ministro dell'epoca. E poi Campobasso, furiosa alite fra giovani marocchini, spuntano i coltelli. Fortunatamente l'intervento dei carabinieri ha scongiurato che la lite degenerasse. E poi lo sport e il Campobasso vuole chiarezza altrimenti è impossibile programmare. Controlliamo anche le pagine interne. Iorio, rilanciare l'economia regionale. L'ultima finanziaria non prevede misure concrete per la ripresa dell'occupazione. L'ex governatore attacca su tutti i fronti. Molise dati, protezione civile, corai e reintroduzione dei vitalizi. E oggi la presentazione del Molise di tutti il giorno di Antonio Di Pietro. Ancora Muccio critica la legge di stabilità licenziata dalla prima commissione. Ieri la conferenza stampa davanti alla Casa degli Angeli. Indignati è necessaria una mobilitazione straordinaria. Lunedì l'inizio delle proteste. E ancora una sezione per le istanze di tutti i richiedenti asilo, ridurre i tempi del riconoscimento. E poi per le amministrative del 2015 le disposizioni per la propaganda sul sito della Prefettura. Adesso guardiamo insieme il quotidiano online futuro Molise. Tra le notizie in primo piano, settantesimo anniversario della liberazione, 25 aprile 2015, De Matteis, quella che doveva essere una democrazia, per molti oggi è solo un'oligarchia. E ancora ospedale di Venafro, assessore Scarabeo, portata all'attenzione dei vertici ASREM e del governatore Frattura, la nuova proposta di riorganizzazione dei servizi. E poi il bilancio regionale 2015. Iorio, documento tecnico, misero, protezione civile sdoppiata. Le novità negative che aumentano i costi della politica. E passiamo ora a primo piano Molise, che titola con Festa della liberazione, 70 anni di democrazia da proteggere e custodire. Frattura rilancia le parole del Capo dello Stato e ringrazia chi ha combattuto per un'Italia diversa. Tanti i messaggi delle istituzioni per ricordare il 25 aprile. Il governatore Paolo Frattura rilancia le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il 25 aprile è il giorno della libertà di tutti. I numerosi messaggi delle istituzioni locali. In tutti emerge l'esigenza di custodire e proteggere il valore della guerra di liberazione e della resistenza di tramandarlo alle giovani generazioni per salvaguardare la democrazia. E ancora Iorio affonda il bilancio tecnico e misero. Unica novità è il ritorno dei vitalizi, l'ex governatore contro il bilancio regionale che riporta in vita i vitalizi della casta. E poi Caterina con la rivoluzione di Renzi, nessuna rendita di posizione per vecchi di esse Margherita. La guerra nel PD secondo l'ex sindaco di Isernia. Anche Giuseppe Caterina, ex sindaco di Isernia, dietro lo scontro in atto nel PD intravede altro. E poi a Isernia, via Berta, gli antifascisti chiedono la cancellazione della strada. La proposta del comitato antifascista di Isernia arriva nel corso di una conferenza stampa alla vigilia della liberazione. Cambiare il nome di via Berta è intitolando la strada ai morti del 10 settembre. E poi i dipietresti cambiano pelle. Oggi debutta il Molise di tutti alla presentazione il presidente della regione. Tra curiosità, boatos e smentite, questa mattina debutta il Molise di tutti, il nuovo movimento politico che fa capo all'ex leader dell'IDV Tonino Di Pietro. E ancora l'ex stadio intitolato a Papa Francesco, grillini fuori dal coro. Il Movimento 5 Stelle boccia la proposta. Il provvedimento ha già superato il voglio della commissione competente, ma Cretella frena il regolamento, impone modalità e tempi diversi. E poi Termoli, santa messa con gli studenti dell'alberghiero, per i gemelli Giovanni e Antonello, travolti e uccisi a Larino. Restiamo a Termoli, zuccherificio, quasi accettate le condizioni della New Co. Salva la campagna saccarifera, la rinegoziazione del fitto d'azienda. I forni dello zuccherificio del Molise si riaccenderanno anche quest'estate. Quasi a buon fine la trattativa con la struttura commissariale intrapresa dall'amministratore unico della New Co. che ha chiesto la riduzione del fitto d'azienda, che potrebbe scendere a 2 milioni e 300 mila euro. Poi una notizia dall'Abruzzo, precisamente da San Salvo, furto di notte nella zona industriale, spariscono tre tir e un carico di vetro. E poi lo sport, serie di lupi, appello alla società, servono fatti e chiarezza. Calcio a 5, la Chaminade ha il match point per il ritorno in cadetteria. Tennis tavolo, campo basso in C1, Cosimi sensibilizza il territorio. E per primo piano Molise controlliamo anche le pagine interne. Politica, chi ci sarà e chi no è il giorno del Molise di tutti. Di Pietro ottiene a battesimo la nuova creatura. Micone stoppa i rumors, resto dove sto. Frattura intanto tallona il premier e mette in agenda un incontro con Matteo il primo maggio all'Expo. Volero l'accordo con Patricello, oggi fanno la guerra alla sanità privata. Caterina rilegge lo scontro nel PD. L'ex sindaco di Isernia promuove la rivoluzione Renzi. E poi i migranti, una commissione locale per vagliare le richieste di asilo. Si insedia lunedì in prefettura, altri 100 profughi sono stati accolti nelle strutture. Liberazione da quel 25 aprile, 70 anni di democrazia. I messaggi delle istituzioni molisane e la scommessa vinta dal nostro paese. Il governatore, patrimonio da proteggere per i ragazzi di oggi. E poi Iorio, pronto alla battaglia sulla finanziaria, accentra poteri e cancella enti uno brobrio. L'ex presidente ne ha pure per la minoranza unica novità. I vitalizi non capisco come si fa ad astenersi. Manovra, Muccio disconosce, frattura lunedì il presidio degli indignati. E poi l'Asdem recluta personale fuori regione. Il provvedimento dei vertici fa discutere. E adesso guardiamo insieme il quotidiano online, informa Molise. Tra le notizie in primo piano, i corsi di formazione per operatore socio-sanitario OSS della Terminus, la sede di Termoli. E ancora il Gesù della storia in Joseph Ratzinger e Monsignor Vittorio Fusco, un convegno a Campobasso. All'Unimol, la presentazione del libro del senatore Domenico Fisichella. Equitalia e commercialisti insieme per semplificare la riscossione. E ancora il weekend con variabilità diffusa tra schiarita e pioggia, anticipazioni per la carrese. In ultimo, insediamento della sezione per il Molise della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. E passiamo ora alla gazzetta del Molise che titola con A volte ritornano. L'Oscar del giorno agli indignati, il tapiro del giorno a Carmelo Parpiglia. E anche per la gazzetta controlliamo la seconda e la terza pagina. Frattura, non soddisfatto di aver trasferito lo studio privato alla Regione, gli ingegneri Mogavero e Pillarella si appresta a rendere studio privato la Regione. Il Molise, in uno stato di sospensione e galleggiando nel nulla lunedì 27 aprile, assisterà a come la Regione possa essere organizzata per continuare ad essere uno strumento docile e malleabile ai voleri di chi la presiede. E poi ancora l'intervento Frattura ripropone il vitalizio. Vediamo la terza pagina, il Molise di tutti due, la rivincita. Con il Molise di tutti uno, quello dello slogan elettorale di Frattura, purtroppo non è andata benissimo. E ancora la Giunta regionale, una banca ad affari, il consigliere Michele Iorio critica duramente il bilancio presentato dal centro-sinistra. In ultimo, esiste davvero il centro-destra in consiglio, Micone si astiene in commissione sul bilancio, gli altri per il resto non pervenuti. E controlliamo ora il sannio quotidiano che titola con 25 aprile una data da non dimenticare la liberazione. Una ricorrenza inattaccabile che reclama unità, coesione e responsabilità. L'impegno del primo cittadino, caserma Pepicelli, uffici non immigrati. E ancora a Ortus c'è l'ipotesi dell'affidamento. Il presidente Miceli, la partnership privata sarebbe la soluzione ideale per rivitalizzarlo. Ieri la Commissione Cultura si è svolta a vi conoscere riflessioni sul futuro del pregevole sito. Ancora operai in nero chiusa una fabbrica al titolare sanzioni per 80 mila euro. E poi al Santissimo Rosario presentato il piano operativo, la proposta discussa al tavolo tecnico a Venafro, al vaglio del presidente Frattura e del direttore dell'ASDREM. Passiamo ora alla stampa nazionale e leggiamo Il Messaggero, che titola con l'oporto le contraddizioni degli Stati Uniti. L'accusa del New York Times, Obama sapeva della morte ma non ne parlò a Renzi, alla Casa Bianca. Il premier, alleati corretti da settimane, i servizi conoscevano l'ipotesi, mercoledì la certezza. Memoria condivisa sul 25 aprile, il paese è più avanti dei politici. E poi la fuga per il weekend, lo schiaffo della Camera, aula vuota, snombata così una tragedia italiana. Ancora al Fano, troppi migranti al sud, accordi europei da cambiare. L'intervista al ministro va riequilibrato il peso dell'asilo. E ancora il blitz contro Al-Qaeda in Italia, pronto attacco al Vaticano e 18 arrestati sono autori di stragi in Pakistan. Passiamo ora al quotidiano e il tempo, colpiamo il Vaticano, presi killer di Al-Qaeda, minaccia islamica, dieci arresti e altri tre ricercati. In Italia, intercettazioni, finanziamenti con i soldi dei clandestini. E Berlusconi arruola Blair in Forza Italia, l'ex premier inglese è l'asso del Cavaliere. Martedì la decisione sulla fiducia a Renzi, se non passa l'Italicum andiamo subito a votare. Il 25 aprile che divide l'Italia tra risse e censure, i 70 anni d'odio della liberazione. E ancora l'intervento, Libia, Barconi e terroristi, tutti gli errori del premier. Ancora Ingroia pro Ciancimino contro Pignatone e ultimo l'ex PM sui soldi in Romania. E poi Barchaccia dopo gli ultratocca ai ladri di Monetine, senza pace la fontana del Bernini. Ancora García lancia la Roma, basta errori. Giallo-Rossi contro l'Inter sul caso esposito dei laurenti. S'attacca politici e capitale. Passiamo ora alla Repubblica. Lo porto giallo Italia-Stati Uniti. Obama non lo disse a Renzi. La Casa Bianca seppe della morte del volontario prima del vertice di Washington. E il premier America Corretta, il ricordo di Gentiloni al Parlamento semivuoto. E ancora sia l'Italicum o cade il governo. Il presidente del Consiglio, Prodi bocciato dall'ONU per i legami con Gheddafi. E ancora Sardegna, blitz contro Al-Qaeda. 18 arresti, il Vaticano nel Mirino. Passiamo ora alla stampa. Che titola con Renzi se la Camera boccia l'Italicum? Il governo va a casa e l'Eurogruppo rompe con la Grecia. E ancora sfida del premier a martedì. Decido sulla fiducia. Obama non disse a Renzi dell'italiano ucciso dai droni. E poi il terrorismo legati ad Al-Qaeda. 10 arresti in Italia progettarono un attentato in Vaticano. Altri 8 estremisti sono fuggiti all'estero. E ancora dopo il vertice dell'Unione Europea immigrati. Perché il piano dell'Europa non funziona? Passiamo al Corriere della Sera. Obama non informò l'Italia. Il caso del cooperante ucciso, il premier americano corretti, non erano ancora sicuri. La ricostruzione, secondo il New York Times, l'identità della vittima era nota prima del vertice alla Casa Bianca. E ancora aula vuota davanti ai bambini, alla Camera, l'intervento di Gentiloni sullo porto. E ancora telefonate indizi, un piano per colpire Roma e il Vaticano. L'inchiesta, 22 arresti. E poi il Papa è tranquillo. Passiamo ora all'avvenire. Obama già sapeva e non avvertì Renzi, il premier alla certezza sullo porto, solo mercoledì. Il fatto, i media degli Stati Uniti dal presidente comunicazione, ritardata. Palermo intitolerà una scuola al cooperante ucciso, ma la Camera, l'aula è vuota. Libia è il giusto morto coi cristiani, l'esempio del musulmano che si è fatto decapitare. E poi ancora Al-Qaeda a base in Sardegna per colpire in Pakistan, presi complici di attentati, Vaticano nel Mirino. E dopo il vertice, le voci dell'aiuto umanitario, l'Unione Europea ha deluso chiesa, volontariato e ONU. E ancora i temi dell'avvenire. Paroline da Francesco, dialogo di pace tra tutte le religioni. Il commento apprendisti stregoni della genetica da fermare subito. E al reportage, la resistenza ai clan a 25 anni dalla strage di Pesco Pagano. Ed ora passiamo allo sport, leggiamo la gazzetta dello sport. Che titola con Juve il Real si batte così. Il sorteggio di Champions, Allegri può alternare due moduli efficaci. A meno infortunati, la possibilità di turnover è un Tevez affamato. L'altra semifinale stellare è Barcellona-Bayern-Monaco. E ancora Fiorentina e Napoli da gran finale. Boniek vi aspetto a Varsavia. In Europa, Ligue, Pescati, Siviglia e Dnipro. Landa Knight parà per l'Inter-Roma il futuro. Stasera Totti ritorna a San Siro, dove ha segnato 14 gol il portiere, corteggiato dai giallorossi. Inzaghi sceglie il Pazzo e Suso. Il Milan oggi a Udine di Natale lascerà i friulani a fine stagione. Questo era il nostro ultimo quotidiano. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per aver scelto la rassegna stampa di Molise TV. Buona giornata. Il meteo è offerto da Iscriviti alla sezione Primavera Bilingue dell'Accademia Britannica. Occorre essere tanto grandi per prendere sul serio le cose dei piccoli. Previsioni del tempo per sabato 25 aprile. Ci sono poche novità nel contesto meteorologico dell'Italia sud-orientale, sempre interessata da un blando afflusso umido in quota dai quadranti occidentali. Ne conseguono generali condizioni di variabilità. Ventilazione debole a tratti moderata dai quadranti meridionali, mari poco mossi. Temperature senza particolari variazioni, sia nei valori massimi che nei minimi. Campo basso, minima 10, massima 20 gradi. Isernia minima 8, massima 18 gradi. Termoli minima 12, massima 17 gradi. Il meteo è stato offerto da Iscriviti alla sezione Primavera Bilingue dell'Accademia Britannica. Occorre essere tanto grandi per prendere sul serio le cose dei piccoli. Ciao! Dovrò albo